Signori e signori, salve, prendiamo posto altrimenti non cominciamo più e invece abbiamo da dire tante cose interessanti. Ok, allora buon pomeriggio innanzitutto, questa è una grande occasione per noi perché abbiamo una persona che ha avuto l'idea brillante di mettere su carta quella che ormai rischia di diventare storia, non più cronaca, ma un processo che magari mettiamo il silenzioso ai nostri cellulari perché siamo tutti pieni di devices. L'avvocato Nicotera, quando ho avuto il piacere di incontrarlo e di parlare con lui di questo libro, io pensavo che fosse una cosa molto tecnica, invece voi vi renderete conto che questa è una pagina di storia che vi permetterà di vivere in un backstage e di vivere non solo le reazioni delle vittime, delle famiglie delle vittime, la parte più tremenda, ma anche di capire questo profilo che poi andremo ad analizzare di Eric Pribke. Io sono Cristiana Ruggeri, ho il difficilissimo compito di fare parlare tutti e bene perché sono loro ad introdurre questo pomeriggio. Allora Fabrizio Santori, grazie, assessore al Comune di Roma. Vorrei dare subito la parola a lei e ringraziarla per questo importante avvenimento. Grazie Cristiana, grazie a te per la tua presenza oggi che imprezzosisse questo importante evento, grazie a tutti voi per la partecipazione e benvenuti nella sala della Protomoteca, la sala più importante per gli eventi dell'amministrazione comunale all'interno di Palazzo Senatorio, quindi una prestigiosa sala che ospita eventi istituzionali di altissimo rilievo come quello di oggi e per questo dobbiamo ringraziare l'avvocato Pietro Nicotera per la proposta che ha fatto, non solo per l'opera, sicuramente per l'opera perché lo sentirete appunto dagli altri anche autorevoli, prestigiosi intervenuti. Questo libro appunto ripercorre l'iter processuale che ha portato Eric Pribke, criminale nazista implicato nell'eccidio delle fosse erediatine dall'arresto in Argentina fino a una sentenza, quella del 1 agosto 1996. L'autore appunto Pietro Nicotera, l'avvocato, è un avvocato che nel corso della sua carriera ha affrontato processi delicati, alcuni dei quali noti, notissimi all'opinione pubblica e quindi per noi è un grandissimo onore ospitarlo qui in Campidoglio per presentare questo testo che è davvero un documento storico perché di questo stiamo parlando, già alcuni commenti pur essendo uscito da poco ci fanno capire l'importanza di questo libro assolutamente da leggere, da presentare in tutte le scuole, un processo storico con aneddoti unici e appassionanti. Questo è quello che ho avuto modo di leggere veramente in pochissimo tempo perché scorre in maniera importante e quindi invito tutti ad acquistarlo, a comprarlo e a leggerlo, ripeto, proprio per l'importanza del testo. È uno spaccato di storia, una storia al presente, un libro molto interessante, ecco questi sono tutti i commenti che abbiamo già raccolto tra tutte le persone e quindi per questo motivo abbiamo deciso di portarlo qui in Campidoglio con autorevoli e prestigiosi e importanti presenze come ad esempio Pacifici, lo ricordiamo nella sua presenza proprio durante quel periodo storico, abbiamo anche il delegato Regard della comunità e lo ringraziamo per la presenza e tanti altri autorevoli oltre dall'onorevole Simona Baldassarre che ringrazio l'assessore regionale alla cultura della regione Lazio, l'onorevole Palombi, deputato della Repubblica Italiana e poi abbiamo l'avvocato Sciullo della Camera Penale, insomma abbiamo una realtà importante che racconterà ed è vicino a questo testo che appunto già amiamo tutti quanti. Quindi grazie e buona continuazione di serata in questo straordinario evento. Allora darei la parola all'onorevole Simona Baldassarre perché si parla di cultura, ecco questa è la cosa importante, la cronaca che sta per diventare storia, con questo libro diventa cultura. Assessore. Grazie e grazie per l'invito, grazie Fabrizio e buonasera a tutti voi. Allora è con grande piacere e con molto rispetto che oggi partecipo a questo incontro. Il ricordo dell'ottantesimo anniversario dell'Eccidio delle Forze Ardetine rappresenta un momento di profonda riflessione su una delle pagine più oscure e bestiali della nostra storia. Un episodio di inaudita ferocia che abbiamo il compito insieme di dover ricordare. In tale contesto il lavoro dell'avvocato Nicotera attraverso la sua recente pubblicazione assume un valore di fondamentale importanza come documento storico e quindi desidero esprimere i miei più sinceri complimenti all'autore per il suo contributo alla nostra memoria collettiva. Questo mio intervento si limiterà a poche considerazioni, ritenendo più giusto lasciare la parola a chi tra giuristi e storici sicuramente dispone di una conoscenza più approfondita da condividere. La vicenda di Pripke di cui si discute oggi ci ricorda che i crimini contro l'umanità hanno un carattere imprescrittibile. Non vi possono essere giustificazioni o scusanti come quella avanzata dallo stesso Pripke sul semplice adempimento di ordini. L'obbedienza a comandi immorali infatti non esonera dal giudizio della legge e della storia. La rappresaglia tedesca in risposta all'attentato di Viera Sella fu un atto criminale, perpetrato da individui colpevoli di crimini contro l'umanità, crimini che non possono e non devono essere dimenticati. L'atrocità commessa dalle forze ardiatine trascende dalla banalità del male, quel male burocratico di cui parla Hannah Arendt con riferimento al nazismo. Fu un atto di particolare malvagità, lo voglio ripetere, bestiale. La storia del processo Pripke è una testimonianza cruciale per la nostra Repubblica e la difesa di Pripke in alcune pubblicazioni ha suscitato anche in me sentimenti di angoscia e di vergogna. L'esistenza ancora in tempi odierni di una nostalgia per il nazismo sottolinea la necessità di rafforzare il nostro impegno costante nell'educazione, specialmente nelle scuole. In tal senso la Regione Lazio realizza programmi nelle scuole per sensibilizzare i più giovani al rispetto e alla cittadinanza. Desidero inoltre porre l'accento anche alla luce della presenza del Presidente Pacifici e degli attuali eventi mondiali sull'elemento antisemita dell'eccidio perfrettato da Pripke. Tra le oltre 300 vittime selezionate per essere uccise alle forze ardiatine, 75 erano ebrei, uccisi per il solo fatto di essere tali. A distanza di 80 anni, oggi purtroppo, è tristemente evidente come l'antisemitismo ancora sia presente fra di noi. Ed è pertanto essenziale valorizzare il ruolo delle commemorazioni per tramandare e custodire la nostra memoria alimentando la conoscenza e prevenendo i ripetersi di simile atrocità. L'arte e la cultura di Roma ci ricordano la straordinaria capacità creativa dell'uomo, così come gli eventi delle forze ardiatine e di Auschwitz ci ricordano le sue potenzialità distruttive. Bene, rimane una scelta di ognuno di noi discernere tra bene e male. E la consapevolezza storica e la memoria giocano un ruolo fondamentale nel guidare questa scelta. Concludo utilizzando le parole di un grande filosofo come Eraclito. Ogni giorno quello che scegli, quello che pensi, quello che fai, è ciò che diventi. Grazie Assessore. Allora vorrei proseguire con quelli che sono i saluti istituzionali perché stiamo dicendo delle parole chiave qui e un'altra parola chiave è giustizia. Per cui chiamo l'onorevole Alessandro Palombi, membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Buonasera a tutti e devo confessare un po' d'emozione nell'intervenire in questa sala, soprattutto in questa sala così gremita. La partecipazione di tante persone a questo evento sono la più grande testimonianza dell'apprezzamento del lavoro per il collega Pietro Nicotera, al quale tributerei un vero applauso perché essere riuscito non solo ad avere il coraggio di scrivere un libro su un tema così delicato, ma anche a coinvolgere così tanti amici, così tante persone che lo apprezzano in una giornata come questa di lunedì pomeriggio, una giornata lavorativa e anche difficile visto che Giove Pluvio non era dalla nostra parte, è una grande testimonianza di affetto e di stima nei confronti del collega. Io mi limiterò a qualche breve considerazione, molto veloce, perché sono qui? Perché sono un deputato della nostra Repubblica, un membro della Commissione Giustizia e in un processo come quello nel quale il collega Nicotera, e dico collega perché sono un avvocato anch'io, è stato protagonista, la G di Giustizia è stata veramente grande, non maiuscola, è stata enorme. Ma sono qui anche perché sono un sindaco, sono il sindaco del comune di Palombara Sabina, che è un comune che confina con quello di Marcellina, qui c'è il sindaco Alessandro Lundini, molti consiglieri comunali che saluto e anche il collega Nicotera ha questo stesso brutto vizio, il brutto vizio della politica per essere un consigliere comunale in un piccolo comune e vi assicuro che è una vera e propria opera di volontariato. Perché questa lunga premessa? E perché questa emozione? Perché nell'Eccidio delle Fosse Ardiatine c'è stato il convolgimento anche di un cittadino palombarese che noi ogni anno commemoriamo. E quindi sapere che quella brutta pagina di storia, una delle più brutte pagine della storia recente, abbia coinvolto anche un cittadino del tuo paese te la fa vivere in maniera più distante, non te la fa vivere come quella pagina che uno studente legge sui libri di storia. Sai che incroci i suoi parenti sulla piazza del paese, che i suoi parenti hanno continuato a vivere lì e che però devono ricordare e commemorare anche il brutto destino che il loro parente ha avuto. Fatta questa lunga e doverosa promessa e mantenendo invece la promessa di essere breve, vorrei soltanto fare una considerazione rispetto al ruolo che in un processo come questo l'Avvocato può avere. In Commissione Giustizia spesso ci troviamo a pensare a quale deve essere la figura dell'Avvocato, a come l'Avvocato debba svolgere non solo quella funzione di assistenza al proprio cliente, ma svolge una vera e propria funzione pubblica. È uno dei soggetti che partecipa all'amministrazione della giustizia. E come vi dicevo prima, fare processi di questo tipo, fare processi che ci aiutano a riconciliarci con la storia, si concilia benissimo con questa funzione pubblica che l'Avvocato deve avere. E allora la stima e il rispetto che per noi giovani avvocati del Foro di Burtino, l'esempio che il collega Nicotera è per tutti noi, ne è una grande testimonianza. Quindi io non posso far altro che ringraziarlo per avermi invitato ad essere partecipe di un pomeriggio come questo e sperare che tanti giovani vedano, in esempio come quello del collega Nicotera, un modello per avvicinarsi al mondo dell'Avvocatura. Grazie mille. E allora salutiamo, sì sì, salutiamo l'assessore Baldassari. Grazie per essere venuta veramente. Il tempo è l'unica cosa che abbiamo contro, il tempo. Per il resto tutta l'attenzione. Grazie ancora, buon lavoro. Salve. Adesso entriamo nel vivo. L'Avvocato Nicotera è stato molto coraggioso nel scrivere questo testo, ma soprattutto questo è un testo che va letto e va lasciato alle giovani generazioni, perché è un testo che rispetta gli esseri umani. Non è solo un testo di giurisprudenza. C'è un brano, un piccolo paragrafo in cui l'Avvocato dice ogni storia andrebbe ricordata, ogni persona, erano delle persone semplicissime, le vittime dell'eccidio delle fosse ardeatine. E lui dice, io vi posso ricordare le persone che hanno incrociato il mio cammino. Ed entriamo nel vivo con questo, perché la cosa che mi ha molto colpito nel leggere questo libro, che vi invito veramente a farlo, a metterlo sul comodino, è stata la folgorazione, la folgorazione umana e processuale che lui ha avuto. Perché a volte capita di sfuggita, di vedere, adesso siamo bombardati dalle notizie, io faccio televisione, voi tutti siete iper tecnologici, per cui le notizie adesso sono un continuo. Qualche anno fa, quando c'era una notizia, la notizia faceva davvero clamore, restava, questa eco aveva un'onda lunga. Quindi, Avvocato, io entrerei nel vivo per raccontare quel preciso istante in cui lei ha visto il servizio sull'ABC. Ha detto, ma non è possibile. E allora entriamo nel vivo di lei umano, essere umano che rimane sdegnato, e l'Avvocato che decide, io voglio esserci, questa cosa me la porto a casa. Prego. Grazie, grazie, Cristiano. Entriamo proprio a gamba tesa. Avevo un programma di fare un preambolo, un ringraziamento. Vabbè, comunque lo faccio. Il microfono. È acceso? Sì, sì. Ah, si sente? Sì. Innanzitutto, io non posso che ringraziare tutti coloro che ci hanno consentito oggi di essere qui, in primis il sindaco che non ha potuto partecipare e ci ha mandato questa mattina una comunicazione che per impegni istituzionali non può essere presente, ma comunque invia il suo saluto. Non posso che ringraziare poi tutti voi perché, come ho sentito dire poc'anzi, in un pomeriggio, un lunedì pomeriggio, con il tempo che tutti abbiamo visto in che maniera ci sta trattando oggi, avete avuto la forza, siete proprio lo zoccolo duro, insomma, delle mie conoscenze innanzitutto, delle mie amicizie, che ringrazio, ma anche delle persone che si sono accreditate per poter partecipare a questo evento, a prescindere dalle conoscenze dirette che ci possono essere state. Quindi entriamo proprio nel merito, nel vivo di questo, di quello che è stato un evento che rimarrà nella memoria collettiva per sempre, parlo delle citi e delle fosse ardatine. Quando io ho deciso di scrivere questo libro, ho deciso di farlo, non certo con la pretesa di scrivere un'opera d'arte o un romanzo o qualcosa, ma di lasciare un documento, nel vero senso della parola, perché in questi 29 anni, sono passati quanti, Riccardo, da quella notte che siamo stati sequestrati? 96. Ci avete sequestrato, ma con piacere però, e poi si è ottenuto il risultato da quel sequestro. Riccardo Pacifici, lo dico subito, era lì quella notte insieme a Walter Vecelio, giornalista del Tg2, caporedattore del Tg2, fino a un paio di anni fa, adesso si sta riposando un po', vero? Con la televisione, però continuo a lavorare, a scrivere. E quindi noi tre siamo proprio la memoria vivente di quella notte. E dicevo, quando ho deciso di scrivere questo libro, l'ho fatto proprio perché avevo il timore che tanti ricordi potessero svanire. perché chi l'ha letto lo harà visto, ma chi lo dovrà ancora leggere se ne renderà conto. Si tratta di piccoli capitoli e piccoli paragrafi che trattano dal primo momento, quello chiamato in causa, poc'anzi, dall'amica Cristiana Ruggeri, fino alla conclusione e all'epilogo di tutta la vicenda, sia processuale che umana, del personaggio di cui stiamo trattando, cioè Eric Pribbi, che è nazista. Diceva Cristiana, la folgorazione è vero, perché quel maggio del 94, era il 3 o il 4 maggio del 94, se non ricordo male, stavo guardando la televisione, sono quei momenti che non si possono dimenticare, stavo guardando la televisione e andò in onda un servizio in un Tg, adesso non ricordo quale, dove venne mandato in onda un'intervista rilasciata ad una televisione americana, lo presentarono come un nazista che si trovava in Argentina da sempre, cioè da subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. identificato col suo nome e cognome, Eric Pribbi, che viveva a Bariloce, lì in Argentina, dove era il presidente della comunità tedesca locale, dove gestiva un negozio di drogheria e dove teneva rapporti anche con le scuole, aveva un incarico, quindi era diventato un personaggio in quel posto. Quando fu avvicinato dal giornalista americano, che lo prese di sorpresa, di sprovvista, lo chiamò per nome e cognome, lui si fermò, si girò, disse lei è Eric Pribbi che dice sì, lei ha partecipato all'Eccidio delle forze di Atene, lui dice sì, ma c'era la guerra, cercò di sminuire un po' le cose, poi tutto stizzito, se ne andò dicendo lei non è un gentiluomo, da lì io rimasi colpito, dico ma com'è possibile? Dico che questo personaggio che è rimasto a vivere, allo scoperto, in un paese, l'Argentina, che non è l'ultimo dei paesi, insomma, senza che nessuno se ne rendesse conto, senza che nessuno potesse prendere un provvedimento, tant'è che questa sensazione che ho provato io, la provo anche il procuratore militare in Telisano, che io l'avevo invitato, ma sta in Francia, che ha un figlio che vive lì, lui sta in pensione, e avrebbe avuto molto piacere di partecipare, ma ha detto che purtroppo ha impedito, sarebbe stato interessantissimo ascoltarlo, perché lui, quello che ha portato avanti, è molto più vicino il microfono. Sì, se mi dilungo dimmelo, perché magari posso diventare noioso, e non vuole. Allora, quindi, stavo dicendo, rimasi colpito da questo e casualmente, casualmente, entrai in contatto, ma nel giro di pochi giorni, con la figlia di uno delle vittime dell'ecidio, Cesare del Monte, cittadino italiano di religione ebraica. Anche lui trucidato in questo tristemente noto eccidio. E parlando con lei, dissi, ma hai sentito? Sapevo che aveva il papà, lei aveva un anno e mezzo quando il padre fu ucciso, che aveva il papà che purtroppo aveva fatto parte di quel gruppo di persone che vennero uccise. Lei non l'aveva sentito, però dico, guarda che è uscita questa notizia. Secondo me è il caso di interessarsi a questa vicenda, perché non può rimanere così. E da quel momento la folgorazione non è stata una semplice folgorazione, ma è stato un concatenarsi di eventi, di vicende rocambolesche. Nel libro si parla di questo, cominciando addirittura dall'estradizione. L'estradizione fu uno dei noti principali di questa vicenda, perché inizialmente l'estradizione non venne concessa e non poteva essere concessa, perché il diritto interno argentino prevede per il reato di omicidio, così come era contestato a privi che è qui in Italia, per il quale, stavo dicendo, il procuratore in Telisano fece una ricerca e vide che era latitante dal 1945, addirittura, e quindi fece rivivere quel mandato di cattura e attraverso il Ministero della Giustizia a privi che venne posto agli arresti domiciliari, l'8 o il 9 maggio, quindi dopo una settimana, a casa sua in Argentina. Era maggio 1994, arrivò in Italia a novembre del 1995, perché ci fu tutto l'iter dell'estradizione, che inizialmente venne negata. E quando venne negata l'estradizione dal Tribunale argentino, con questa motivazione che giuridicamente parlando era corretta, perché per poter estradare da un paese all'altro un cittadino di un paese straniero in quel momento, il reato deve essere punibile sia per quel paese, sia per il paese che lo richiede. Siccome per l'Argentina il reato era prescritto, non ce lo potevano estradare. Allora io che feci? Non è che voglio prendermi i meriti di qualcosa, è una cosa che pensai di fare e me la sentivo di fare, perché abbiamo sentito l'assessore parlare di crimine contro l'umanità. E io questo argomentai, perché feci il ragionamento che se rimanevamo fermi nel trattare il fatto contestato a primi, che come un semplice, non è cosa di poco conto, un omicidio continuato di 335 persone, così come era contestato, non potevamo andare oltre, non saremmo arrivati a processarlo, non potevamo ottenere la giustizia che poi lo Stato italiano ha ottenuto. Allora feci io una denuncia in maniera provocatoria, ben sapendo che in Italia il reato di genocidio era stato introdotto dopo, nel 69, quindi non si può essere processati, le dico in maniera molto semplice, per un reato che nel momento in cui è stato commesso un fatto non era previsto. Però feci questa denuncia per genocidio e chiesi alla Corte Penale Internazionale di Giustizia all'ONU di istituire una Corte Penale Internazionale di Giustizia che rimase lettera morta. Questo però fece un po' di clamore a livello mediatico e anche a livello internazionale. Tant'è che la Corte di Cassazione Argentina, a cui lo Stato italiano poi si era rivolto per impugnare quella decisione che aveva negato l'estradizione di Pribke, fece questo ragionamento. Dice, noi non possiamo estradarlo perché il reato di omicidio è prescritto. Però, siccome tra le 335 vittime vi erano 75 persone di religione ebraica, siccome vennero uccisi e trucidati solo perché di religione ebraica, questo configura un reato, un crimine contro l'umanità. E come crimine contro l'umanità è imprescrittibile per il diritto delle genti e può essere processato in qualsiasi paese del mondo. E ce lo mandarono. Quindi questo fu l'obiettivo principale da raggiungere che abbiamo ottenuto per poterlo fare estradare e poi processare. Poi lasciamo stare tutto quello che è successo. Se avrete la pazienza di leggere il libro lo potete vedere meglio perché se no staremo qui fino a domani mattina e non è possibile questo. Però questo fu il primo risultato. E devo dire che il secondo passaggio che riguarda poi... A dirla così sembra che la cosa si sia dipanata in poco tempo oppure in maniera indolore. Non è così perché pure prendere certe iniziative Riccardo Pacifici ce lo sa comporta poi assumersi dei rischi, no? Perché lettere in minaccia siccome queste iniziative venivano anche anche pompate a livello mediatico e quindi diciamo che c'è stata un po' di tensione pure in quel periodo anche in famiglia. Superato questo primo gradino perché abbiamo parlato prima arriviamo al gradino successivo perché l'ostacolo successivo da superare era quello di poter rappresentare i familiari delle vittime delle vittime delle citture delle forse ardentine in un tribunale militare perché poi questo processo si è svolto davanti a un tribunale militare. Perché? Perché il diritto penale di procedura penale militare non prevedeva la possibilità di costituirsi parte civile. E quindi abbiamo dovuto e io mi ricordo che era il giorno due giorni prima dell'udienza preliminare perché prima che arrivò in Italia che era il 24 di novembre del 95 l'udienza preliminare la facemmo ad aprile se non ricordo male e due giorni prima di quest'udienza preliminare feci la richiesta proprio di sollevare la questione di costituzionalità davanti appunto alla Corte Costituzionale perché ritenevo che fosse che fosse veramente una disparità di trattamento enorme quella di potersi costituire parte civile per un reato per chiedere i danni per i familiari davanti alla giustizia ordinaria e non si poteva fare davanti alla giustizia militare venne accolta questa eccezione e quindi venne sospeso il processo e la Corte Costituzionale poi ci ha dato ragione quindi il secondo obiettivo raggiunto per poter iniziare questo processo che iniziò poi l'8 maggio del 96 si concluse il primo agosto del 96 e adesso tutto quello che è successo in questi quattro mesi perché ci sono state delle questioni locambolesche magari poi potremmo riprendere dopo il discorso io però non so se vogliamo parlare subito di quello che avvenne quella notte esatto allora come giustamente dice l'avvocato è tutto spiegato incredibilmente nel libro non dovete avere una doppia laurea in giurisprudenza è scritto in modo talmente chiaro e fruibile che anche chi non è un collega dell'avvocato è in grado di capire tutti i passaggi e anche i nodi salve grazie di essere stato con noi arrivederci grazie ma c'è una notte perché questo è stato probabilmente il primo processo mediatico che abbiamo avuto con un clamore pazzesco anche di pubblico e una reazione delle persone comuni e c'è una notte eh brabbino c'è una notte quella del primo agosto che è stata una notte ehm che ha lasciato il segno per chi c'era e per chi poi l'ha sentito raccontare Riccardo Pacifici ce la racconta intanto non sono rabbino grazie di questo no non è rabbino lei l'ho promossa oggi promuono tutti più che altro per rispetto ai rabbini quindi allora intanto volevo ringraziare l'autore del libro di avermi coinvolto eh in questa appassionata po' vicenda che chiaramente riapre riapre momenti particolari vorrei però chiarire alcuni aspetti con il permesso anche delle rappresentanti dell'unione delle comunità ebraiche italiane la dottoressa Livio Ottolenghi e l'assessore alla memoria della comunità ebraica di Roma Billy Regarde Daniele Regarde è interessante quello che ha detto l'avvocato si è riuscito a portare questo signore che io ho smesso di chiamarlo per nome è un impegno che presi con il presidente napolitano che voglio ancora ringraziare che ci sostenne in tutto quello che poi è stata l'attività successiva cioè nei momenti in cui li stava agli arresti domiciliari e soprattutto ricordo benissimo quando ci venne a trovare a conclusione del suo mandato era proprio il 16 ottobre e lui era da poco morto e ci furono anche incidenti come è noto per celebrare i suoi funerali io ho smesso di chiamarlo per nome per me rimane solo e semplicemente il boie delle fosse adatine affinché quel nome cada nell'oblio e vorrei ricordare che la sua tomba ha un numero ha un numero una decisione saggia presa allora dalle istituzioni e sta in un posto nascosto per evitare che non sia oggetto di pellegrinaggio dei nostalgici del nazifascismo perché ne abbiamo tanti e chiede questa è un'altra vicenda che dobbiamo sottolineare la cosa più incredibile è che mi trovo spesso a raccontare di questa vicenda con estremo imbarazzo per il semplice fatto e lo diciamo proprio quella notte che ha assunto sempre ancora oggi nell'immaginario collettivo ogni processo che ci sta nei confronti dei nazisti come un problema fra gli ebrei le allora vittime e i carnefici di allora dimenticandoci che noi paradossalmente in quella vicenda della della strage delle fosse retine siamo stati una parte di uno spaccato dell'intera società non solo c'erano gli oppositori politici tenore Stame vorrei ricordarlo padre di quella che poi è diventata la presidente dell'associazione delle vittime Nicoletta Stame voglio ricordare ma sono stati presi militari ammazzati Montezemolo uno fra tanti Pietro Pappagallo uomini di fede carabinieri quando abbiamo avuto gli scontri ricordo molto bene che c'erano delle transenne delle transenne quelle che stanno per strada in un corridoio di un un decimo di questa di questa sala e che dicevamo a loro e anche alle persone un po' arrabbiate dentro la sala dice guardate che voi dovreste difendere la memoria dei vostri carabinieri vittime quanto noi quindi non era un problema solo il nostro allora perché dico questo perché c'è un cortocircuito di comunicazione nel quale è comodo è molto comodo mettere in un palcoscenico simbolico l'ebreo vittima che piange ricorda e vuole riportare alla luce quei fatti e quelli che sono stati i nostri carnefici certo in termini percentuali è innegabile che l'unicità della Shoah è rappresentata dal fatto che lì c'era effettivamente un programma di genocidio scritto con leggi con attività di cui anche l'Italia ne è stata complice ma l'imbarazzo per me nasce dal fatto che nel momento in cui noi facciamo esercizio di memoria andiamo ancora oggi nelle scuole è ancora relegato come poverini loro e io dico sempre poverini voi cioè io dico che noi tutti penso di interpretarlo il pensiero noi siamo stati cresciuti sta nel nostro dna il tema della memoria e sono preoccupato del fatto che non ci sia memoria nella società civile ho conosciuto ragazzi figli di partigiani che non sapevano nulla dei loro nonni di quello che avevano fatto delle loro geste eroiche qualche cosa che si è interrotto forse in un brevissimo racconto fra i testimoni eroidi allora i loro figli ma non con i loro nipoti se non raramente allora io credo che noi avremo la necessità di farlo per un motivo molto semplice e qui entro in un aspetto politico molto pesante e anche imbarazzante è singolare che si ottiene per la prima volta l'estradizione di un criminale nazista nel primo governo di centrodestra in Italia nel 1994 dall'allora ministro di grazia e giustizia Biondi che voglio ricordare fu un atto eroico e la cosa più vergognosa è che questi signori e non era solo Pripke potevano viaggiare tranquillamente in varie parti d'Europa Italia compresa a fare le loro vacanze fra di noi perché l'Italia a differenza della Germania che ha fatto i conti con il passato per cui non esiste un alcun simbolo che ricordi il nazismo in quel paese noi viviamo anche nelle aule di questo posto dove ci troviamo forse quella accanto in cui il fascio è un elemento che non si toglie perché la lobby degli architetti dice che in fin dei conti questo fa parte del patrimonio e quando vengono i turisti tedeschi americani inglesi francesi australiani di tutte quelle forze alleate e vedono l'obelisco del duce davanti allo stadio olimpico si domandano come possa esserci ancora duce mussolini e il fascio che sta lì come monumento allora questo perché è avvenuto è avvenuto per un motivo molto semplice e qui dobbiamo riprenderci in mano la storia sarebbe bello farlo insieme a coloro che stanno dentro al Parlamento perché ancora oggi nonostante ho avuto il privilegio di assistere una cerimonia sul 27 gennaio recente nonché anche quelle del 16 ottobre dentro il Senato dentro il Parlamento io ancora sto aspettando le scuse noi stiamo aspettando le scuse dallo Stato italiano per l'emanazione delle leggi razziste e solo recentemente noi abbiamo ottenuto grazie al lavoro fatto dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane un timido accenno al fatto che noi non dobbiamo dimostrare per ottenere gli assegni di benemerenza di essere stati perseguitati perché c'era che ne so quel rettore che così si è svegliato la mattina ha cacciato via un insegnante o quel capitano o generale che ha cacciato via il suo cittadino ebreo che serviva all'esercito o quelli che stavano dentro le aule dei tribunali cacciati via noi abbiamo avuto un'applicazione rigorosissima delle leggi razziste per cui l'Italia si è potuta permettere di essere prima artefice del sterminio degli ebrei dei suoi cittadini ebrei italiani quindi complice dell'occupante nazista quando poi è venuto a prelevarci Caruso l'ha iscritto ha dato l'elenco dei suoi cittadini ebrei e nello stesso tempo si autoassolve l'Italia grazie ad un patto fatto con il partito comunista di allora per la pacificazione nazionale non lo voglio giudicare però prendiamolo come tale per cui questa vicenda si chiude e in Terisano all'improvviso dopo quell'intervista capisce e scopre questo famoso armodio della vergogna che signore non è che è stato sono state bruciate le carte le carte stavano là tantissimi dei criminali dei complici di quelli che ci hanno venduti molti ebrei sono stati venduti all'occupante nazista e soprattutto ai fascisti per 5.000 lire che cambiavano la vita immaginate quando portavano via una famiglia intera e non erano famiglie di 3 o 4 persone a volte di 8 uno cambiava proprio la propria posizione e noi siamo nella situazione in cui grazie a quella pacificazione nazionale quell'armadio viene girato e lui trova veramente un armadio girato con le porte che davano sul muro così ci ha raccontato in Telisano in varie occasioni allora noi non abbiamo fatto i conti gli italiani sono brava gente e non perché non ci sono stati italiani che a rischio della loro vita per esempio non abbiano salvato degli ebrei io sono qui grazie ad alcuni eroi preti uomini di fede mio padre è stato salvato dentro un convento ma ad ognuno degli ebrei e non solo degli ebrei che sono stati catturati grazie anche spesso al fatto che sono stati venduti dai loro concittadini allora a conclusione perché poi potremo raccontare tante cose ma stanno scritte qui io credo che un libro come questo una storia come questa ci deve aiutare a capire qual è il nostro ruolo oggi lo dico con estrema disagio disagio perché stiamo vivendo momenti terribili ci sentiamo sotto accusa io ho la sensazione che la capacità di riscrivere la storia e dei cosiddetti revisionisti è sempre dietro l'angolo abbiamo vinto delle battaglie importanti anche nelle aure del Parlamento portando a processo anche coloro che negano o minimizzano la Shoah la portata della Shoah però oggi si può fare un processo collettivo in cui Davide Parenzo per esempio solo perché ebreo non può andare a parlare in una università come è successo venerdì sulle brigate rosse così perché adesso c'è la caccia all'ebreo allora su questo io credo che noi dovremo riflettere e capire non per difendere gli ebrei lo dico non ho minimamente paura lo dicevamo fra di noi prima del rigurgito di antisemitismo non me ne frega assolutamente niente vivo in un paese libero nel quale sono sanciti i nostri diritti dai ebrei che abbiamo conquistato grazie al lavoro della resistenza grazie alla Costituzione ci sentiamo protetti dalle istituzioni tutte dalle polizie dalle forze dell'ordine che ci difendono in ogni luogo e a volte vengono anche picchiati per difenderci va bene sentiamo il calore di tante persone se ce ne sono altre che in questo momento hanno posizioni diverse e dobbiamo rispettare certamente ma non con il linciaggio e la ricerca all'ebreo questo sappiamo che non succederà più proprio perché sappiamo che c'è un'Italia diversa più consapevole e forse insieme potremo fare un lavoro per chiedere che l'Italia non venga assolta dalle sue responsabilità per aiutarla a uscire da quelle responsabilità esattamente come ha fatto e lo dico lo prendo come esempio la Germania giuro concludo quando e voglio ricordare questo episodio che sembra quasi comico raccontato una sera insieme a Walter Vettroni da Vicky Hassan un genio della moda quello che ha inventato i jeans di Energy lui con un noto marchio di sua proprietà Miss 60 aveva per errore fatto un logo del Miss cioè della Miss le SS assomigliavano molto come logo lui si era ispirato ai Led Zeppelin invece era stato interpretato dalla opinione pubblica tedesca come le SS dei nazisti fecero sequestrare tutta la merce di un'intera stagione in Germania e al momento del sequestro della merce il suo avvocato ha detto guarda noi possiamo fare ricorso stai perdendo milioni e milioni di euro lui disse no facciamo bruciare questa merce va bene così poi tornò a casa preoccupato dicendo ho perso tanti soldi in Germania se dovessero fare la stessa causa che hanno fatto i cittadini tedeschi non le istituzioni in tutta Europa io fallirò lui è andato avanti perché nessuno neanche in Italia ha fatto quello che hanno fatto i cittadini tedeschi quindi noi paradossalmente oggi ai nostri carnefici di allora ma ai ragazzi delle nuove generazioni gli dobbiamo dire grazie perché c'è un paese che ha fatto i conti col proprio passato grazie 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 a Riccardo Pacifici adesso darei la parola alla professoressa Ottolenghi all'assessore all'istruzione dell'unione delle comunità ebraiche italiane professoressa cosa pensa lei di questo di questo testo qual è l'importanza anche culturale di un testo come questo prima di tutto è un documento come ha detto l'avvocato Nicotera e quindi penso che per tutti noi sia importante avere questo documento cioè che sia a disposizione perché le esperienze narrate nel libro e sono narrate in quella maniera che lei diceva cioè col backstage cioè con il fatto e anche con i retropensieri con le situazioni con le emozioni col sudore con le persone che manifestano il disagio cioè si racconta proprio quello che è accaduto dà l'idea e può dare la sensazione dell'importanza del momento quindi questa è la prima cosa volevo però sottolineare quello che diceva Pacifici poc'anzi cioè che questa storia l'eccidio delle fossardiatine è una storia italiana è una storia romana è anche ebraica ovviamente perché gli ebrei che sono stati coinvolti e uccisi in quelle cave evidentemente fanno parte del nostro dolore gli ebrei romani ma c'è tutto e c'è tutta l'Italia lì dentro e quindi questo è importante perché spesso io sento e ho sentito spessissimo persone che consideravano l'eccidio delle fossardiatine come un fatto esclusivamente ebraico chiaramente sono persone poco informate però evidentemente la scarsa informazione esiste anche su queste cose che dovrebbero far parte del DNA della memoria collettiva della nostra città oltre che del nostro paese quindi importantissimo avere un libro di questo genere importantissimo avere la possibilità di leggerne parti nelle scuole perché le nuove generazioni sappiano e possano discuterne capire anche alcuni momenti magari scelti proprio per comprendere quello che è accaduto io vorrei ho letto velocemente perché il figlio dell'autore mi ha mandato il pdf e quindi ho avuto modo di leggere velocemente il libro in alcune parti mi hanno colpito due cose che volevo sottolineare all'inizio c'è proprio tutta la parte della scansione temporale di questa storia poi c'è una parte che racconta di quali sono state le storie degli altri nazisti che sono stati coinvolti in tutta questa storia e tutti sono morti nel loro letto quindi su questa cosa qua bisogna anche riflettere perché per noi è importante che ci sia stato un momento di condanna però queste sono tutte persone che sono morte a casa loro e quindi questo per me è una profonda ingiustizia la vivo come profonda ingiustizia però al tempo stesso penso che come memoria collettiva dobbiamo valorizzare quelle che sono le procedure della nostra costituzione del nostro stato della nostra giurisprudenza e dare modo a tutti di conoscere qual è stato l'iter che è stato un iter determinato anche dalla non indifferenza della popolazione perché se si fossero fermati al primo giudizio questa cosa non la stavamo raccontando come è avvenuta quindi penso che da questo punto di vista ognuno di noi nel Pirkeavot noi abbiamo un detto rabbinico che dice che noi non siamo tenuti a concludere l'opera ma non possiamo esimerci da lavorare al meglio per portare avanti l'opera stessa per cui quando è successa la prima parte cioè la prima la prima sentenza se si fossero fermati tutti nessuno avrebbe detto niente probabilmente ma non saremmo qui a parlare e invece no invece c'è stata gente che ha avuto il coraggio di alzare la testa di parlare li ringrazio tutti perché oggi abbiamo la possibilità di avere una memoria corretta con un racconto corretto di quello che è avvenuto e poi vorrei anche sottolineare un'altra cosa sempre nelle prefazioni si legge appunto che ci sono stati diversi tipi di condanne c'è stata la condanna per l'eccidio e poi c'è stata la condanna per il furto a Kappler per cui io vorrei sottolinearvi anche a tutti voi questa cosa noi abbiamo chiara la storia degli eccidi nazisti degli eccidi nazifascisti sappiamo questa gente che era militare che si sono trovati a perpetrare delle stragi a perpetrare degli eccidi da militari però io vorrei sottolineare che sono stati dei grandi ladri perché hanno rubato tutto quello che potevano rubare hanno rubato le vite evidentemente ma hanno rubato anche l'oro hanno rubato l'arte hanno rubato le cose preziose di tutti i popoli su cui pensavano di poter agire non soltanto gli ebrei tutti sappiamo tutti la questione dell'arte rubata durante i nazisti per cui non c'è dignità in quello che hanno fatto e io questo volevo sottolinearlo perché altrimenti si pensa sempre che ci sia dignità anche dalla parte del cattivo invece lì no ci sono state proprio delle situazioni di mancato riconoscimento dell'umanità degli altri della dignità degli altri del rispetto degli altri popoli per cui questo è estremamente importante penso che sia un punto io ringrazio l'avvocato Nicotere perché lui ha detto sono l'autore o presunto tale prima presentandosi invece io penso che sia importantissimo avere questi documenti per la memoria collettiva e per la memoria sulle nuove generazioni che oggi è ancora più importante perché via via che passano gli anni è sempre più importante avere documenti a nostra disposizione e a disposizione dei nostri figli grazie grazie a lei professoressa e prima di affrontare quello che è stato il racconto di un cronista di allora e prima di dare la parola a Walter Veccellio vorrei restare sul filo della cronaca che diventa storia e l'importanza della memoria memoria e ditemi e ditemi voi e soprattutto lei Daniele Regar l'assessore alla memoria della comunità ebraica di Roma spesso questa parola la parola memoria viene sottovalutata no? la parola memoria ha di per sé un'importanza fondamentale e trasversale sì grazie buonasera a tutti intanto io porto i saluti della comunità ebraica di Roma e la parola memoria non può essere non può rappresentare solamente appunto una parola ma la memoria deve essere uno strumento uno strumento che noi abbiamo ovviamente in tante occasioni ribadito l'abbiamo fatto il 16 ottobre lo facciamo il 27 gennaio lo facciamo sempre quando andiamo a parlare di questi temi uno strumento uno strumento appunto di conoscenza contro l'ignoranza contro il pregiudizio e di questo che noi stiamo parlando e io credo che questo testo rappresenti qualcosa di molto importante nel senso che io nel 1996 avevo 10 anni quindi ovviamente questo può essere una parte importante per ricostruire la storia di quelle ore e di quei momenti e io l'ho fatto ovviamente attraverso i racconti i racconti di Riccardo penso a mia madre che ha visto da vicino questo processo e penso anche a mia zia Maria Teresa Regard che probabilmente l'avvocato Nicotera conosce Maria Teresa Regard era una gappista una partigiana che testimoniò al al processo e ovviamente lei fece emergere l'efferratezza la crudeltà di Prigbe e ovviamente rimase raccontò via tasso raccontò ovviamente tutto quello che è stato fatto in quei giorni e ovviamente lei rimase molto male per l'esito del primo processo e legandomi a quello che diceva adesso la dottoressa Ottolenghi è quello che è successo dopo cioè il racconto di quello che è successo dopo io lo dico questo concetto lo ribadisco spesso ovvero quello della scelta c'è chi fece una scelta c'è chi fece la scelta di testimoniare e oggi l'avvocato Nicotera ha fatto la scelta di raccontarci quello che è successo ed è un lascito ovviamente molto importante c'è anche Prib che fece una scelta fece una scelta di crudeltà e questo ovviamente deve essere ricordato noi possiamo ricordare la parte buona la parte ovviamente negativa della storia ma tutto deve essere sicuramente raccontato e oggi abbiamo un compito un po' un compito molto importante come dicevamo all'inizio ovvero attualizzare il concetto di memoria perché la memoria non può essere una cerimonia non può essere solamente una ricorrenza dobbiamo utilizzare la memoria per raccontare e far capire l'attualità anche i giovani quindi la scelta che oggi devono fare i giovani è quello di approfondire di non fermarsi a un articolo di un giornale ma di andare a fondo di saper usare le parole giuste le parole corrette perché altrimenti torniamo in quella mistificazione della storia che ci ha portato ai momenti più bui dello scorso secolo quindi bene bene che si facciano cose come questa perché sono per noi veramente un lascito fondamentale grazie grazie a lei scusami prima di far parlare Walter Vecelio volevo fare un piccolo preambolo perché con Walter Vecelio abbiamo avuto anche un separietto non so se lui lo ricorda quando ci fu la prima udienza dibattimentale del processo del primo processo quello di cui poi si parla nel libro che io il giorno precedente il giorno precedente a questa data ricevetti una lettera con una busta gialla originale con su scritto corte suprema di Cassazione io ho aperto questa lettera e c'era un dispositivo di sentenza dove praticamente si diceva che doveva che prima che doveva essere assolto perché aveva compiuto un gesto insomma ma io la misi nella busta la tieni lì poi arrivai al tribunale militare che chiaramente era difficile accedere perché già aveva una location un po' antipatica e difficile da raggiungere e come tutte le altre udienze perché ha seguito il processo dall'inizio alla fine e ne ha subito le conseguenze se ce lo vorrà dire fino a poco tempo fa anche insieme a Riccardo le conseguenze insomma gli effetti collaterali anche se antipatici no quelli del pagamento delle spese di giustizia mi riferisco e sequestro di persona sì e quindi mentre si parlava prima dell'inizio dell'udienza ho mostrato questa lettera a Walter e gli dico ma sa ha ricevuto questa cosa non dà l'importanza a lui sono da ottimo giornalista e cronista in quel caso no dice fammela vedere ha chiamato l'operatore con la telecamera ha inquadrato la lettera ha inquadrato la cartellina dove c'era scritto studio legale di codere e alle ore 13 l'ha mandato in diretta televisiva a Tg2 dall'epoca non c'era il telefonino mi ricordo che però c'era mia moglie a casa che non sapeva quello che fosse successo e stava guardando il telegiornale si spaventò pure poi dopo ci siamo sentiti nel pomeriggio perché le udienze vennero vennero calendarizzate c'era un'udienza al giorno per quattro mesi quindi perché il processo doveva finire in quattro mesi così aveva sabito il presidente del tribunale militare Quistelli così aveva deciso perché voleva mettere una pietra sopra a questa vicenda e sceglie il primo agosto del 96 alle ore 18 data e molto significativa giornata incandescente sia per il caldo che faceva sia per quello che è successo dopo e quello che posso dire è che voi eravate fuori perché vi è stato impedito di entrare allora scusate ragazzi potete raccontare questo primo agosto a tutti perché è incredibile questo però davanti al microfono perché sennò avevano messo le trancelle no fuori il tribunale nel corridoio avevano messo lì le trancelle per non farvi per non farvi avvicinare e questo già fu un primo campanello d'allarme perché dico per quale motivo i familiari delle vittime o chi è interessato al processo neanche io non si poteva entrare quindi già avevano dato l'alletta noi magistrati dicendo qui potrà succedere un qualcosa e noi invece che stavamo nell'aula perché era stata riservata a poche agli avvocati a Pribbiche l'aula era un'aula di 10 metri per 5 quindi un'auletta io stavo qui Pribbiche stavo a 5 metri vicino al suo avvocato e quindi alle 18 puntuale uscì la sentenza sentenza di proscioglimento perché in maniera del tutto svincolata da qualsiasi norma giuridica fu dichiarata errato prescritto avendo concesso le circostanze attenuanti generiche a quel criminale cosa che poi fu ribaltata nei gradi successivi ma non è questo il punto Pribbiche in un primo momento non capì quello che fosse successo e guardò l'avvocato Direzze che era il suo difensore Direzze si avvicinò con l'aiuto dell'interprete anche se Pribbiche parlava benissimo italiano perché lui fu mandato qui in Italia come vice di Capple perché era un interprete di lingua italiana quando ha capito che era libero fece un ghigno e si cominciò a guardare intorno come per dire io so perché me l'ha detto Direzze che già era pronta una macchina per portarlo in Francia e poi da lì prendere l'aereo per andarsi in Argentina scoppiò la rivolta scoppiò la rivolta ma a livello mondiale perché tutte le televisioni anche di altre nazioni parlarono di quello che era successo a Roma che non eravamo stati capaci neanche di fare un processo con un tribunale accreditato che rendesse giustizia effettivamente ad un crimine efferrato quale quello delle lecite delle vostre aldatine e Riccardo non l'ha raccontato prima ma è scritto nel libro alla fine perché c'è tutta una sua ho voluto come possevazione riportare una sua dichiarazione dove racconta con il cuore quello che è successo quella notte e ho visto l'espressione di primi che è cambiare di ora in ora perché alle 6 alle 18 c'è stata la sentenza alle 20 non si sapeva che cosa dovesse succedere il tribunale e il presidente Quistelli erano sequestrati nella loro stanzetta perché non potevano uscire perché quella stanza della Camera di Consiglio non aveva altre vie di uscita se non passare per quel corridoio dove c'erano loro che con il passare delle ore erano sempre più cariche e sempre più accesi e quindi alle 8 primi che l'ho visto un po' sconsolato perché non capiva più cosa stesse succedendo ma neanche noi lo sapevamo fino a che a mezzanotte arrivò a mezzanotte venne Rutelli che era sindaco di Roma fece spengere le luci del Colosseo dei monumenti segno di protesta quindi una protesta unanima i lavori del Parlamento vennero interrotti fu fatto un minuto di silenzio a mezzanotte cominciò a girare la voce che veniva il ministro Flick il ministro della giustizia una cosa che non è mai avvenuta penso che non avverrà più nella storia nella storia giudiziaria e anche della Repubblica che un ministro si rechi in un'aula di tribunale dopo che un imputato è stato assolto o prosciolto che dir si voglia e emette un ordine di cattura cosa che per il nostro codice di procedura penale è previsto in un solo caso quando viene chiesta l'estradizione per l'estero e quindi attraverso la TICOS viene attivata una procedura particolare che consente al ministro di fare questo quindi questo fu posto in essere da Intelisano in maniera intelligente devo dire e dal ministro Flick fecero chiedere l'estradizione alla Germania e quindi il ministro era titolato per emettere quest'ordine provvisorio d'arresto che aveva durato di sei mesi quindi alle tre di notte alle tre e quindici per la precisione venne ammanettato e portato a Regina Celi non era più al cance dei militari e da lì da lì poi c'è stato tutto il resto che potrete trovare della ricusazione venne accolta una ricusazione del tribunale annullato il processo fino alla condanna definitiva all'ergastolo ma non vi voglio anticipare i temi se no poi non avrete più la curiosità nemmeno di leggerlo insomma e quindi in tutto questo Walter Vecelio fu un'anima di quella vicenda e vorrei che continuasse lui su questo oppure che dicesse quello che gli tiene più opportuno dire a carta bianca ma intanto devo dire ho condiviso quasi tutto quello che ha detto il mio amico Riccardo Pacifici però qualche virgola me la voglio qualche emendamento riconosco quando ha detto Alfredo beh Alfredo Biondi è un autentico liberale dovremo portarne memoria e anche uomo di legge perché faceva l'avvocato e quindi non mi stupisce non deve stupire che si sia comportato nel modo in cui si è comportato ce ne fossero di biondi oggi in circolazione nelle aule di giustizia e nelle aule parlamentari sono d'accordo e non sono d'accordo quando dice lo capisco non voglio fare più il nome di questo boia delle ardiatine ha ragione non lo farò neanch'io però non voglio smarrirne la memoria quindi quel monumento che si trova con il Dux io lo voglio conservare e vorrei che chiunque passa il sotto possa sapere che cosa è stato cosa rappresentato e che cosa costituisce e quindi essere elemento di conoscenza e di memoria quel monumento se oggi non c'è più forse ho più fatica a raccontare perché dico questo vabbè io mi sono occupato della vicenda di Pridke in una maniera molto casuale all'epoca se io entravi in redazione alle 8 e un quarto invece che entrare alle 8 magari mi capitava un servizio piuttosto che un altro quel giorno questo giornalista mi pare dell'ABC che si chiamava Sam Donaldson aveva fatto il suo scoop in realtà cercava un altro nazista il centro Wiesenthal di Los Angeles aveva segnalato un altro nazista e l'altro nazista individuato dice ma perché venite a rompere le scatole a me ce n'è uno molto più importante e indica l'innominabile il quale risponde sventurato nel modo in cui avete ricordato voi e si innesca tutto il meccanismo e la notizia diventa notizia e io mi sono trovato lì e il mio capo redattore dice va bene se è arrivato così impari a venire in ritardo adesso te ne occupi da quel momento lì me ne sono occupato e sono contento di essermene occupato non è che me ne dolgo naturalmente però faccio una piccola ricerca perché questo signore sconosciuto per me era effettivamente sconosciuto e c'era un libro morte a Roma di uno storico americano Robert Katz che è defunto da anni l'aveva pubblicato per gli editori riuniti credo che sia un libro estremamente difficile oggi da trovare bisogna trovare o nelle bancarelle o nelle librerie antiquarie è il primo che viene citato una al massimo due volte ma in maniera estremamente collaterale quindi non esiste in quel libro che racconta di via rasella e dell'ecidio alle ardiatine che ne è seguito e poi Katz ha scritto un altro libro quello in occasione del processo quando si è svolto perché lui viveva a New York ma viveva anche a Roma aveva uno studio a Trastevere e l'ha pubblicato Rizzoli ma anche questo è un libro completamente sparito se non andate a trovare è faticoso da cercare perfino io non mi vergogno mai a comprare libri in un'unica occasione mi sono vergognato e lo sono andato a prendere in una libreria lontana perché ha sfornato non so se l'ha scritto lui o se l'ha fatto scrivere da qualcun altro un mattone della sua biografia e io sono stato uno di quelli che diciamo ha contribuito ai suoi diritti d'autore e anche quello è un libro che immagino ogni buon nazista nostalgico si sia acquistato però non credo che abbia avuto una grande diffusione e anche quel libro quindi lo mettiamo da parte è faticoso trovarlo e poi c'è un libro più generale quando abbiamo detto le responsabilità degli italiani che ci sono state come non solo le leggi razziali che per fortuna non abbiamo applicato a volte con il rigore dei nazisti ma che sulla carta erano peggiori di quelle dei nazisti non sempre le abbiamo qualche insomma se le avessimo applicate con il rigore sì però ripeto per esempio ci siamo inventati il fatto che per legge io sono ebreo se mia madre è ebrea però i fascisti i fascisti dicono no che c'entra la madre il padre che conta ma anche il padre è ebreo sì però tua madre ha fatto le corna a tuo padre tu sei figlio di quello che ha fatto le corna e quindi ti trovavano la scappatoia erano tutti a livello basso ho detto quelle leggi erano tremende peggiori delle leggi naziste l'unica attenuante che le abbiamo applicate non con il loro rigore tedesco l'abbiamo applicato un po' meno poi dopo i frutti malevoli ci sono stati ugualmente non è che voglio attenuare niente figuriamoci però un libro di una storica americana ital-americana Susan Zuccotti che si chiama l'holocaust in Italia racconta per filo e per segno tutte le complicità dei repubblichini con i nazisti i treni erano tedeschi si andava nei campi di concentramento nazisti ma quei carri venivano chiusi dagli italiani le denunce venivano dagli italiani quindi abbiamo un fardello di responsabilità di cui non voglio attenuare nulla ma anche quel libro che racconta nel dettaglio andatelo a cercare è stato pubblicato da Mondadori mai più ripubblicato quindi c'è un dovere di ricordare e di rammemorare per questo questo libro è importante perché ci riporta a memoria e ci documenta tutta una serie di cose che è faticoso recuperare trovare io ho assistito con con dolore con fastidio con sgomento non so che termini usare ricordate l'intervista che ha dato Liliana Segre quando dice io ho paura che fra un po' questa cosa tremenda che si chiama Shoah sarà relegato nei libri di storia in una riga di una pagina e mano a mano non esisterà più perché noi testimoni che abbiamo vissuto non ci saremo più per un fatto biologico e non riusciremo più a tramandare a ricordare a far capire ecco un libro come questo è un aiuto fondamentale a che non si dimentichi e ci sia qualcuno che se vuole tramanda il fatto di tramandare credo che sia qualcosa di estremamente fondamentale e perché l'oblio è un pericolo è un pericolo incombente la mia storia vabbè comincio a seguire questo processo si lascia sgomento il fatto che quest'uomo questo innominabile non abbia mai lasciato trasparire accampato fino a cent'anni perbacco un minuto di ripensamento di rimorso di scuse lui era fieramente nazista l'ultimo respiro che ha fatto esattamente come quando è stato nazista con Capner a Roma e ha fatto tutto quello che ha fatto e lo si vedeva nella sua postura fisica adesso io non voglio scadere cose lombosiane però proprio la sua postura era veramente freddo cinico arrogante tutto che congiurava contro di lui e devo dire non ero molto obiettivo non sono stato molto obiettivo io vi confesso è una vicenda questa che mi fa cadere in contraddizione io io sono sono radicale ormai di antico pelo Marco Pannella e Leonardo Sciasce sono le due persone che mi hanno formato e a cui devo tantissimo di quello che sono e loro erano contro l'istituto dell'ergastolo io quante volte Marco Pannella si l'ergastolo va abolito si la costituzione prevede che a ognuno venga dato una possibilità di prim che no e lui dice ma come prim che no è prim che no questo no gli altri si prim che no io quando è stato condannato successivamente all'ergastolo è un ergastolo molto blando perché poi l'ha fatto nel modo in cui sappiamo questi arresti di umicea ero contento per il valore della sentenza che veniva riconosciuto questa colpa perché dico questo perché non è vero assolutamente che lui solo in occasione delle fosse erdiatine ha sparato ucciso obbedendo agli ordini non è assolutamente vero per una vicenda fortunosa che sarebbe lungo da raccontare conoscevo un appassionato italo-americano che viveva a New York che era appassionato di storia gli archivi americani sono molto accessibili a differenza di quelli italiani dopo un certo numero di tempo chiunque senza dover motivare chiede il documento il documento gli viene fornito e lui indagando su un'altra strage perpetrata dai nazisti in campagna aveva a Cagiazzo esattamente il protagonista di questa strage tra l'altro è morto tranquillo nel suo letto in Germania e conservava nell'armadio la divisa nazista come una reliquia l'abbiamo trasmessa filmata quindi non temo smentite in questo dicevo fugando su questa storia lui era originario di Cagiazzo trova un documento che una spia americana aveva trasmesso al servizio segreto americano all'epoca credo l'OSS e Pribke assieme ad altri gerarchi nazisti Wolf Kapler e altri due viene letteralmente descritto non lo dimenticherò mai come torturatore persecutore di ebrei e di partigiani e questo sì ma questo documento ha la data antecedente al Via Rasella e alle Ardiatine lui era persecutore e torturatore di partigiani individuato da questa spia e denunciato ai suoi referenti già sette otto mesi prima che i partigiani facessero la strage a Via Rasella quindi veniva a crollare uno dei pilastri della sua difesa io ho ucciso solo quella no tu eri quello che con gusto e piacere ha indossato la divisa della SS hai fatto la SS sei stato un SS e hai continuato a essere un SS e quindi cambiava tutto e naturalmente questa cosa non è stata molto gradita dalla difesa di Pribke perché per andare sul tranquillo quando è che ho esibito davanti alla telecamera questo documento alle 13 quando ero in diretta quindi non c'era possibilità di essere fermato non c'era la possibilità di tagliare il servizio ho detto sapete che c'è non voglio saperne leggere né scrivere mi danno la linea e sbatto questo documento naturalmente gli avvocati non l'hanno presa molto bene questa storia e non avendola presa molto bene poi è accaduto che mi sono trovato troppo onore magari fossi stato uno degli organizzatori della rivolta che c'è stata il giorno della soluzione di Pribke magari avrei voluto esserlo sarebbe motivo di orgoglio una bella medaglia purtroppo era semplicemente un cronista che seguiva i fatti comunque ci troviamo Riccardo e io indicati come i capi di questa rivolta che figuriamoci è una rivolta di popolo così si può dire non solo della comunità ebraica perché c'era c'era tutta Roma insomma o tutta la Roma democratica se vogliamo chiamarla così e quindi veniamo querelati e vabbè e ti chiami un avvocato e vieni difeso e viene assolto in primo grado poi viene assolto in secondo grado poi viene assolto in Cassazione questo punto è finito la Cassazione nel suo dispositivo aveva anche dato un qualcosa di risarcimento per il nostro disturbo risarcimento che io mi sono ben guardato dall'andare anche a sognarmi di esigere perché era l'ultima delle cose che potevo desiderare avere anche un centesimo di questo innominabile però dopo un paio d'anni ci viene recapitato una busta verde dove si dice che all'agenzia delle entrate dobbiamo dare un X di denaro esatto e io vado naturalmente dal mio commercialista e gli dico io ti ho raccomandato mille volte che se dobbiamo fare una cosa deve essere una botta mondiale dove io mi ritiro alle BAMAS ma per 250 euro mi fai questo scherzo e lui guarda bene e trova una piccola dicitura dove c'è scritto per spese processuali e giustamente mi dice guardi io non c'entro nulla qua te la devi vedere col tribunale che hai combinato nei tuoi lavori e siccome non avevo combinato nulla dopo faticose telefonate e appuntamenti riesco a capire che prib che era stato condannato in tutti i tre gradi prib che aveva acceso lui le querele io mi ero pagato il mio avvocato senza chiedere nulla di risarcimento ma siccome risultava nulla tenente ecco che le spese processuali ricadevano a noi come onere a questo punto uno dice sentite che vogliamo fare era ministro della giustizia se non mi ricordo male la cancellieri o della giustizia dell'interno adesso mi sbaglio forse insomma dopo che è uscito un po' mediaticamente questa cosa un anonimo benefattore lo leggo su Repubblica si era offerto di pagare questa multa l'anonimo benefattore chi è che si sente in dovere di pagare al posto mio evidentemente ho pensato all'escamotage che si sono inventati al ministero dicendo va bene che andiamo per automatismo va bene che c'è l'algoritmo ma proprio questi qui di primi che andate a rompergli le scatole facevate finta di niente buonanotte chiuso lì no dopo due anni ritorna questa busta l'anonimo benefattore non c'è mai stato questo punto mi voglio togliere dai piedi sta rottura di scatole anche perché c'era la minaccia veniamo a casa tua a sequestrarti i mobili tutte ste robe qui era un po' seccante il pignoramento sta roba qui pensandoci bene avrei dovuto accettare di trovarmi i mobili pignorati e vedere che cosa succedeva insomma avrei dovuto fare la stasceneggiata ma all'epoca mi sono semplicemente rivolto a Clemente Mimun che era direttore è direttore di Canale 5 non sono andato al Tg2 per un conflitto di interessi evidente e gli ho detto senti io vado all'ufficio postale di Piazza Vescovio pagherò questi 250 euro mi mandi un giornalista con la telecamera che facciamo un po' una sceneggiata e lui mi ha mandato il giornalista abbiamo fatto questa sceneggiata e mi è rimasta tra virgolette la beffa di essere querelato dal punto di vista politico dopo che ho avvicinato una decina di parlamentari e ho capito ma forse si ricordava anche di quell'altro papiro tutto quello che vuoi però quello che mi sconcerta è che quando parlavo con qualcuno lo trovavano assolutamente ma è la legge che lo dici dico scusa la legge e mi sono sentito dire dal tribunale deve capire lo Stato non ci può rimettere e io ho detto ma perché io non sono lo Stato cioè io posso rimetterci e lo Stato no io non sono un cittadino italiano io sono un suddito e quindi l'ho chiusa lì pagato questa cifra ma al tempo stesso non è cambiato nulla e Prib che non era vero che non era nulla tenente perché Prib che qualche processo l'ha vinto purtroppo quando un giornalista del Corriere della Sera ha insinuato sul Corriere della Sera che poteva essere coinvolto nel delitto della storta di Bruno Buozzi cosa che è possibile però non è probabile in sede processuale il giornalista è stato condannato a pagare una signora multa però comunque ha pagato il giornale in più bene o male quel libro io l'ho comperato il libro dell'innominabile quindi ho partecipato ai suoi diritti d'autore non credo di essere stato l'unico purtroppo ci sono molti che ritengono l'innominabile una persona per bene degna e quindi avranno comperato quel libro lì semplicemente lo Stato italiano non ha voluto procedere e verificare però mi ha detto guarda che se vuoi dopo che hai pagato tu puoi cercare di recuperare i soldi con priviche e io mi sono sentito preso in giro la seconda volta e ho detto ma come tu Stato non riesci a trovare i soldi di priviche ci riesco io come singolo cittadino quando sono andato a raccontarlo a una decina di parlamentari il più solidale ma che vuoi che presentiamo un'interrogazione e ho detto francamente vorrei che cambiassi la legge che cosa me ne faccio di un'interrogazione a risposta scritta con un ministro che risponde attraverso un suo funzionario in maniera in maniera burocratica ecco questa per dire come ci sono degli episodi tra virgolette collaterali assieme a questa bella storia che ha raccontato il nostro Nicotra e io gli sono grato di averla raccontata e spero che questo libro abbia abbia il successo che merita e che venga ristampato se fossi un ministro ci dovrebbe essere anche una pubblica istruzione ma comunque se fossi un ministro della pubblica istruzione raccomanderei la lettura di questo libro almeno come facoltativa in tutte le scuole raccomanderei che in tutte le biblioteche pubbliche una coppia di questo libro fosse lì ricollocata dove uno se vuole lo individua lo prende e lo legge temo che non siano questi i tempi purtroppo con cui questo augurio possa essere accolto peraltro sono impegnati ma mi ricollego prima di concludere con quello che diceva Riccardo hai ragione queste storie del passato perché ormai dalla cronaca siamo passati alla storia devono servire come monito per l'oggi tu fai bene a non aver paura io invece la paura ce l'ho perché quando tu citi il caso di Davide Parenzo e io c'ho paura e non è un caso isolato Liliana Segre riceve tutti i giorni delle lettere minatorie e lei stessa dice ma è possibile che le mie amiche le mie amiche mi debbano raccomandare non uscire di casa stai a casa come stai a casa devo avere la scorta perché deve essere subire le minacce tutti i giorni e io non posso dimenticare quella marea di bracci stesi di H. Larenzia e non mi possono dire ma tutti gli anni succede peggio che andare di notte se succede tutti gli anni che giustificazione è se è un qualcosa di orribile si ripete e se gli atti gli episodi di antisemitismo non solo purtroppo in Italia leggevo l'altro giorno in 90 ma anche in Francia non ne parliamo in Germania ovunque si ripetono e si dimentica possibile che una donna venga allontanata il giorno della festa della donna per aver ricordato non ho parole per dire per definire lo scempio che è accaduto il 7 di ottobre dopo Gaza lì in Israele possibile che debba essere allontanata perché ci ricorda quello che è accaduto è possibile che nessuno si sente in dovere di fare un corteo per chiedere semplicemente la liberazione degli ostaggi è una cosa molto semplice liberate gli ostaggi poi se vogliono veramente che non ci sia più quella cosa tremenda che accade a Gaza basta liberare gli ostaggi non è che è difficile allora e tutto è nato da lì poi possiamo essere sgomenti per tutto quello che è accaduto dopo possiamo essere addolorati ma certo il sangue di quei bambini è rosso esattamente come il sangue delle vittime che ci sono state il 7 di ottobre chi lo nega la differenza è che in Israele si piange per essere costretti a fare quello che si fa mentre dall'altra parte no non si piange si è contenti e quindi chiudo con questo richiamo all'oggi che mi porta a essere lo confesso molto pessimista io credo che noi apparteniamo a una generazione che non vedrà cose particolarmente orribili forse anche i nostri figli io non sono sicuro che i nostri nipoti non vedranno il ripetersi di quello che è già accaduto grazie Walter grazie grazie mille a Walter Vecellio per questa sua testimonianza appassionata grazie professoressa anche lei non si preoccupi so che siamo andati un pochino lunghi con i tempi ma vorrei presentarvi il professore Alberto Gambino membro della commissione europea contro il razzismo al consiglio d'europa lei ha potuto ascoltare anche questa pagina abbiamo allargato il tema inevitabilmente sì non solo ho ascoltato questa pagina ma è verissimo che questi rigurgiti siano presenti in vari paesi europei la commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza che nel consiglio d'europa monitora i 46 paesi del consiglio d'europa il 47esimo è sospeso e la russia per verificare qual è la soglia di rispetto dei diritti umani soprattutto con riferimento alle cosiddette minoranze quindi questo significa che per quanto italiano noi siamo indipendenti rispetto al paese cui apparteniamo e quindi c'è la possibilità di fare segnalazioni su tutta Europa ogni qual volta ci possono essere espressioni di razzismo antisemitismo di episodi anche singoli non siamo un organo giurisdizionale quello poi è la corte europea dei diritti dell'uomo che eventualmente se ne occupa noi siamo un organo politico istituzionale che si rivolge ai governi ai 46 governi alle 46 cancelleria dell'Europa larga l'Europa stretta è quella della commissione europea ai 27 l'Europa larga è quella del consiglio d'Europa e i nostri rapporti durano 5 anni il monitoraggio rispetto ai paesi che ci vengono assegnati due a due due commissari in 5 anni fanno una relazione su alcuni paesi su tutti i paesi in realtà questo da un punto di vista istituzionale quindi c'è una piena disponibilità nei confronti di chi ha cuore che ci sia un pieno rispetto e non si torni alle aberrazioni del passato ho visto ho letto il libro consentitemi è un penalista io sono un civilista ma comunque lo sento come collega mi hanno coinvolto alcuni passaggi Roma che si costituisce parte civile è bellissima questa cosa perché sono le radici della nostra città che si costituiscono e questo mi ha commosso perché è proprio radicato in questo territorio la realtà che invece è stata conculcata nei suoi diritti in maniera aberrante le leggi razziali è una macchia che non si cancellerà mai il tema della prescrizione è la coscienza è molto bello le coscienze non si prescrivono il diritto si prescrive anche se poi oggi la Corte Costituzionale è intervenuta proprio sul tema della prescrizione in particolare c'è un'illegittimità di un ordine che si ritiene in questo caso che è un ordine disumano e quindi va oltre la regola giuridica questo è fondamentale perché se noi non lo andiamo a raccontare nelle scuole il formalismo giuridico cui noi legali inevitabilmente siamo legati perché abbiamo le procedure le scadenze che non ci fanno dormire la notte i termini eppure a un certo punto prevale l'umanità e quell'umanità è superiore alla norma del diritto positivo dello Stato è quella la vera norma che non è solo di coscienza ma è di una civiltà che si confronta tutti i giorni e rispetta l'altro e questo è il motivo che io ho letto che a un certo punto il rammarico lo chiamo del collega Nicofera era quello di placare gli animi e dire no noi dobbiamo arrivare fino in fondo al processo la fiducia anche nella giustizia umana è commovente quando dice si fa l'appello si fa l'appello perché io lì voglio tenere che lo Stato quando eserce la giustizia si riallinei alla coscienza è molto bello perché quel disallineamento crea una frizione in ciascuno di noi come la crearono le leggi razziali non si può vivere in una casa comune che non ha quel rispetto e siccome la giurisdizione l'esercito è una persona in carne e ossa umana con tutti i loro errori ma lo esercito nel nome della legge e nel nome dello Stato e da questo punto di vista la strada era la sentenza di appello e poi certo tutta la storia anche devo dire anche coraggiosa del ministro che blocca tutto che in qualche ora si riesce a recuperare una situazione che sarebbe inevitabilmente trasbordata un altro passaggio questo è un po' più per gli addetti lavori i tribunali militari i tribunali militari che quasi non riescono a capire il crimine contro l'umanità c'è un po' scusate questa espressione un po' di cinismo in chi governa abitualmente alcuni crimini che è diverso invece dal tribunale ordinario che ovviamente ogni singola vita ha un valore infinito il crimine militare il tribunale militare questo lo sente meno ed è molto interessante questo passaggio perché fa anche capire poi talvolta anche la non dico non preparazione ma forse l'insensibilità che si può trovare in chi incarna quei giudici come peraltro è successo in questo caso io ho colto anche un grande attaccamento alla toga un grande attaccamento alla propria professione perché non è facile quando arrivano delle decisioni che in questo caso non hanno un valore patrimoniale hanno un valore immenso sul piano morale non è facile accettare la sconfitta quando non è accettabile perché oggettivamente c'erano degli errori vengono spiegati molto bene gli errori sono proprio errori giuridici quindi non c'era una sentenza che a un certo punto l'opinione pubblica contrasta c'era un errore profondo in diciamo che non sono tecnicalità giuridiche e poi colgo un'espressione bella quando viene richiamato quel primo agosto del 1986 come risveglio dal torpore ecco forse è importante anche quando si verificano con un po' di cinismo queste situazioni che si stigmatizzano da ultimo pare insomma ce ne sono tante che ci possiamo risvegliare da un torpore da non accettarlo perché quelle leggi razziali sono arrivate perché c'è stata tanta indifferenza c'è stata tanta connivenza in chi le ha firmate e c'è stata una scarsa reazione in chi poteva anche in quel momento storico ancora reagire e in fondo le leggi sono lo specchio di una società perché sono l'espressione in qualche modo della politica di quel momento oggi la corte costituzionale diceva che l'archiviazione per prescrizione non è condanna e questo è importante perché è una distinzione dove spesso sempre di più uno cerca di leggere tra le righe se comunque era colpevole perché sul piano morale comunque almeno c'è una qualche soddisfazione anche se poi il reato si è prescritto non può essere così non può essere così perché le norme del diritto il tempo in questo caso se non si applica non si può applicare perché il delitto è davvero abberrante deve fare chiarezza anche per le coscienze e per i nostri giovani del futuro che ahimè non sempre a scuola sono formati fino in fondo quindi per me è un onore essere qui non solo perché c'è un collega importante c'è una comunità ci sono tanti amici ho visto tanti volti di persone il volto il volto viene richiamato in quella aberrazione in quella disumanità c'è l'ordine e c'è il volto e l'ordine si doveva restare davanti a quel volto perché si riconosceva nel volto l'umanità non nell'ordine c'era una possibilità di riscatto l'arrestarsi davanti al volto che è il proprio volto alla fine non è il volto di un altro e invece dall'altra parte è l'ordine che è una cosa fredda cinica e quella espressione del volto che in qualche modo è un capo d'accusa enorme ci tocca da vicino grazie grazie a lei professore grazie a lei professore allora io darei la parola siamo arrivati alle conclusioni all'avvocato Salvatore Sciullo il tesoriere della Camera Penale di Roma e noi lei porta i saluti ma ha ascoltato di tutto e vorrei sapere la sua sì allora buonasera a tutti io sono un penalista come Pietro e quindi sono abituato a prendere la parola per ultimo e prendendo la parola per ultimo siamo quelli che andiamo a trarre un po' le conclusioni del processo e dobbiamo richiamare la vostra attenzione essere rapidi però allo stesso tempo ho il dovere di valorizzare l'opera di Pietro e devo dire che prendo veramente la parola con grande piacere per l'invito che l'amico Pietro Nicotra mi ha fatto e lo dico subito bello 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 proprio bello questo ritengo che sia un un docu libro un libro documentario che va a documentare non soltanto la parte storica e abbiamo sentito dei massimi esponenti che hanno purtroppo vissuto in prima persona direttamente trasmettendoci anche quel pathos quelle problematiche quella drammaticità del momento ma c'è la parte processuale che è la parte che fa unitamente al fatto storico per l'appunto la storia la storia di questo paese la storia che siamo noi e allora oltre a portare i saluti della Camera Penale del Presidente Scalise e la nostra vicinanza perché Pietro Nicotra è un penalista come lo è la figlia Carlotta e come lo è anche il figlio Gian Maria che è un nostro iscritto della Camera Penale e questo testimonia anche la passione che si tramanda perché Pietro anche leggendo questo libro si capisce la passione la dedizione che mette all'interno di questo libro però devo fare un passaggio ulteriore che leggendo il libro mi ha fatto molto riflettere l'importanza della funzione del difensore perché il penalista l'avvocato penalista quale Pietro testimonia di essere ormai da qualche anno è un ruolo importante e noi per l'appunto con la Camera Penale abbiamo proprio uno di quegli scopi che è quello di tutelare e promuovere la funzione del difensore la dignità l'autonomia l'indipendenza che sono tutti i valori che Pietro Nicotera ha testimoniato in questo processo di avere di tutelare e di difendere e nulla è scontato soprattutto in situazioni che si capisce si percepisce ambientalmente definiamole così particolari difficili e con la sua tenacia con la sua caparbia dall'individuazione che ha fatto televisivamente alla denuncia che ha sporto a sollevare una questione di legittimità costituzionale che per la prima volta si è riconosciuto il principio di potersi costituire parte civile un cittadino privato in un processo davanti al tribunale militare e questo è stato anche questo un altro segmento un altro tassello in questo percorso storico che direi dal punto di vista giuridico è stato estremamente importante e determinante e allora in questo libro che si legge benissimo soprattutto in un sabato più uggioso qual è stato quell'altro giorno vola via vi consiglio veramente di leggerlo ricostruisce le tappe di un processo che è un processo che ha fatto la storia è un processo alla storia e un po' noi penalisti con i nostri processi diventiamo co-artefici della storia ci sono due punti che mi hanno colpito molto e vorrei leggerli perché sono pagina 91 questa fu la parte più le parole di Pietro testuali questa fu la parte più ansiogena da affrontare quale difensore con un contatto diretto con i parenti delle vittime che parteciparono al processo perché era il loro processo la loro vicenda umana ed era difficilissimo spiegare loro che sarebbe potuto finire con una dichiarazione di non responsabilità se si fosse seguita la linea difensiva dell'imputato di avere obbedito a un ordine a cui non poteva sottrarsi sentivo su di me il peso dell'importanza del momento e quindi una certa agitazione nel sapere che a quel punto una volta presa la parola gli occhi del mondo sarebbero stati su di me in quanto il processo veniva ripreso e trasmesso si può dire da tutte le televisioni dei diversi continenti tutto questo tutto questo mentre la famiglia di Pietro è stata minacciata e allora la forza dell'uomo la forza dell'avvocato che in questo momento delicato è andato avanti ed ancora e concludo a pagina 107 io non ho seguito nessuna direttiva e le iniziative che ho preso a volte sono state anche osteggiate da chi invece avrebbe dovuto sostenerle con forza vedete questo è un po' il dramma che tutti noi penalisti viviamo e ancora di più in questi processi importanti perché tra la realtà storica ciò che è realmente avvenuto e la realtà processuale quello che proviamo quotidianamente a ricostruire all'interno delle aule di giustizia è difficile e spesso non ci sarà mai una perfetta sovrapposizione e allora credo che proprio con la dedizione l'impegno la passione l'amore per questa professione che Pietro ha messo in particolare in questo processo è riuscito diciamocelo chiaramente diciamocela veramente tutta attraverso la fusione tra l'avvocato penalista e l'uomo Pietro Nicotera lui è riuscito credo a fare la storia un passaggio importante della storia del nostro paese grazie Pietro potrei dire nell'emozione del mio intervento credo che sia corretto chiarire un passaggio ci sono stati penso 15 secondi che hanno fatto la storia dell'esito di questo processo nelle modalità in cui non la stiamo raccontando e devo ricordare lo sento veramente dal profondo del cuore un signore si chiamava Raimondo di Neris era un sopravvissuto alla Shoah perché se non fosse stato per lui il processo si sarebbe concluso nelle modalità che sappiamo la Tuglia Zevi che era l'unica messa nell'aula disse andiamo tutti a deporre i fiori e il comune di Roma insieme ai rappresentanti della comunità devo anche dire una cosa il presidente della comunità ebraica di allora Claudio Fano era figlio di una vittima delle fosse addiatine e non ce l'ha fatta emotivamente ad essere presente al processo cioè alla sentenza anzi lui stava negli uffici che cosa è successo che mi ricordo benissimo siamo sceci dalle scale del tribunale ci viene a prendere il sindaco Rutelli e dice a me e a Raimondo di Neris con il quale arrivai con un motorino andiamo a deporre le i fiori insieme a Tuglia Zevi montate sulla mia macchina noi abbiamo il Raimondo di Neris e disse a me non me ne frega proprio niente di salire su quella macchina sembrava il grande onore nella macchina del sindaco no? che ti accompagna io a me sarà affidato un compito e qui è ritroscena che lui non ha voluto pubblicare però lo dobbiamo dire ma non lo potevo pubblicare perché non volevo no no assolutamente ma invece la storia è esattamente un'altra noi eravamo rassegnati all'idea che in qualche maniera questo processo era già segnato nell'idea che sarebbe stato assolto ma noi venivamo dall'esperienza del processo diciamo di Kappler Kappler venne portato venne fatto fuggire a metà agosto a ferragosto praticamente e in maniera dicendo che la moglie se l'era portato via dentro una valigia cioè adesso ci vogliamo far prendere in giro cioè l'Italia l'ha consegnata alla Germania e lì è morto allora noi ci inventammo una cosa la dico me ne assumo tutte le responsabilità civili penali poi ci sono bravi avvocati e qui andremo avanti per noi giovani l'idea era il contrappasso della storia avevamo avuto qualche anno prima una vicenda romana a Via Domodossola che qualcuno ricorderà molto bene dove gruppi di neonazisti imperversavano nella strada e pensavano di poter bastonare i migrati in quanto tali andavano a colle oppio a bastonarli mentre dormivano gli davano fastidio mentre stavano ai semafori ma una notte fecero un grosso errore misero le stelle gialle con scritto Via Sionisti dall'Italia in tutti i negozi degli ebrei di Via Libia di Via Appia di varie parti di Roma e loro stavano a questa sede a Via Domodossola e 400 giovani guidati dai sopravvissuti dai figli dei sopravvissuti venne diciamo messa a soquadro e eravamo consapevoli che qualcosa ci sarebbe successo io non ero là e lì venne fuori la legge Mancino cioè lo Stato prese atto che non era normale che gli ebrei si facessero giustizia da solo da soli e quindi e noi chiedemmo quindi in memoria di questa vicenda a Ramondo di Neris di fare una cosa siccome doveva passare in quel famoso corridoio stretto lui doveva tirare una cinquina detta proprio alla romana lo dobbiamo mettere lui doveva tirare una cinquina Eric Prieb che nel momento adesso mi è venuto fuori chiedo scusa gli doveva tirare una cinquina mentre rientrava magari sciva libero e io andai da tutti i giornalisti dicendo guardate quel signore per tutto il tempo non chiedetemi il motivo che altrimenti c'era lì se mai qualcuno poteva andare a dire alle forze dell'ordine ma per me l'idea per noi l'idea l'abbiamo programmata da quattro persone che un sopravvissuto alla Shoah di ottant'anni che dopo tutto quello che aveva vista volevamo vedere se dopo una cinquina data a un criminale nazista che non si è mai pentito basta di chiedere ah perché voi ebrei non perdonate no il perdono è un atto dovuto nel momento in cui qualcuno ti viene a chiedere scusa non quando qualcuno non ti viene a chiedere scusa quindi non prendiamo lezioni su questo su questo tema grazie che ce lo hai ricordato il giorno del Kippur nel giorno in cui gli ebrei fanno digiuno e hanno l'obbligo di chiedere perdono e di dare perdono a chi gli chiede scusa ma lo deve dire dal cuore quindi noi ogni anno dobbiamo azzerare i contenziosi con gli altri e quindi lui disse al sindaco Rutelli glielo potete chiedere io non me ne vado da qua finché non gli do la mia cinquina peccato che grazie al fatto che ci eravamo ribellati lui non poteva uscire da quell'aula e se non fosse stato che lui diceva io lo voglio davanti a me noi non avremmo fatto resistenza non avremmo potuto fare resistenza come raccontato se il rabbino Toaf quando venne convocato da Quistelli mi disse vi sto seguendo dall'isola d'Elba non lasciate l'aula il rabbino Toaf l'uomo del dialogo l'uomo che aveva ricevuto Giovanni Paolo secondo di Benedetta a memoria quindi il rabbino ci disse di rimanere e sbiancò Quistelli per questo e Raimondo Di Neris aspettò fino all'ultimo e quando poi gli abbiamo detto guarda che l'abbiamo arrestato ci ha pensato Flick che è stato coraggiosissimo fece una cosa lui ha detto no io devo andare adesso dobbiamo andare a casa basta allora vi dico che questa è una storia noi abbiamo scritto la storia e in tutto il mondo 114 testate giornalistiche erano lì presenti 114 avevamo gli occhi grazie a Raimondo Di Neris all'idea gli devo dare quella cinquina l'Italia ha riscattato se stessa e poi lo abbiamo condannato e voglio sottolinearlo a noi non interessava che lui patisse quello che hanno patito i nostri ha detto l'autolinghi no? sono tutti morti nel loro letto a noi ci serviva la sentenza poi ha fatto gli arresti domiciliari perché non andava benissimo là perfetto così ma di fronte alla storia c'era il bene e c'era il male ma io penso che questo racconto sia incredibile ci voleva ci voleva tanto perché qui abbiamo parlato di argomenti tremendi abbiamo parlato di forza di coraggio di passione e il coraggio e la passione che ha messo l'avvocato a cui vorrei dare l'onere e l'onore di chiudere questo nostro pomeriggio di riflessione no avvocato ma a lei le faccio la classica domanda del giornalista tornando riavvolgendo il nastro no? dopo tutto questi retroscena che ci state raccontando cioè lei rifarebbe tutto? ma sicuramente sì sicuramente sì questa oramai questa vicenda ha caratterizzato così come penso tutti quelli che l'hanno vissuta no Riccardo ha caratterizzato la mia vita cioè ma assolutamente no ha caratterizzato la mia vita cioè questo libro libro questo documento non lo voglio chiamare libro è uscito perché più di qualcuno come ho detto in apertura me l'ha sollecitato io rifarei tutto rifarei tutto proprio perché ho sempre davanti un'immagine io l'immagine di Prib che quando entrò per la prima volta all'Udien quando sbarcò innanzitutto in Italia e dopo pochi giorni venne all'udienza preliminare siccome lui aveva perché questo me l'ha detto il suo avvocato quindi aveva visto dall'Argentina dove stava gli arresti domiciliari un servizio di un telegiornale italiano che aveva ripreso la notizia della denuncia che io avevo fatto contro di lui per genocidio per strage perché ricordiamoci che le vittime delle forze ardiatine sono 335 ma non sono solo quelle c'è la 336esima vittima una povera signora che si trovava a raccogliere la cicoria che ha sentito colpi di fucile di pistola si è avvicinata ed è stata uccisa perché era una testimone scomoda e poi i 5 uccisi in più i 5 uccisi in più perché dovevano essere 330 solamente perché dei simoni scomodi e questo l'ha detto il maggiore As superiore di Primche e quello fu uno dei motivi per cui fu condannato Kapler all'ergastolo perché Kapler fu assolto perché il tribunale militare del 48 ritenne che aveva obbedito ad un ordine dicendo questa cosa nel rapporto del 10 ma fu condannato per l'errore per i 5 in più all'ergastolo quindi io questo ricordo il ricordo di Primche che era praticamente il contabile quello che teneva la lista e che vedeva scendere l'ha ricordato molto bene il professor Gambino che si è allontanato ho visto che ha notato dei passaggi a prescindere dalla storia ma è giusto come sa fare un professore nella sua levatura ha colto i passaggi più emotivi del libro di questa persona che ha visto scendere e passare davanti a sé 335 volti tra cui ragazzi giovanissimi che sapevano di andare a morire e non ha battuto ciglio dalle 2 del pomeriggio dalle 14 fino alle 20 quindi questo era uno dei pensieri prevalenti quando si celebrava questo processo e vedevo in faccia questo personaggio alcuni soldati si rifiutarono di risparare perché ogni persona saliva sopra le vittime una montagna era diventata quando a un certo punto il microfono si sono rifiutati non ce la facevano emotivamente a sparare sulla testa lui l'ha fatto per loro lui l'ha fatto anche accompagnati e quindi questo smettisce il fatto che se non avesse obbedito all'ordine sarebbe stato ucciso perché per chi non ha obbedito all'ordine non è stato preso nessun tipo di provvedimento e quindi c'è stata tutta una serie di circostanze e quindi per rispondere definitivamente alla domanda che Cristiane mi ha posto rifarei e rifarei tutto così come l'ho fatto con l'impegno che ho profuso nel svolgere il mio mandato in quella circostanza e per il rispetto che avevo dalle persone che ho rappresentato Marina del Monte e i suoi familiari la signora Sede Piazza Sonnino la famiglia Sonnino profondo rispetto e devo dire una cosa questi familiari che io rappresentavo non sono mai voluti venire in tribunale ma non per un motivo particolare perché non se la sentivano di farlo io l'ho rappresentato e riferivo loro quello che succedeva ma non hanno mai voluto partecipare e Marina del Monte è citata lo dico nel libro nel museo che sta negli Stati Uniti d'America alla memoria è citata lei la sua storia la storia del suo papà lei era piccolissima aveva un anno e mezzo quando fu ucciso quindi sicuramente rifarei tutto io voglio ringraziare tutti voglio ringraziare te Cristiano voglio ringraziare è stato un piacere coloro che hanno partecipato voglio ringraziare Salvatore e nel ringraziare lei avvocato e i suoi ospiti vi aspetta il libro all'uscita grazie per essere stati con noi così tanti e così attenti buona serata un abbraccio